ecco l'armadillo ecco l'armadillo minchia raga sta raga ma non ci credo ma lasciamolo stare adesso lo ammazzo minchia l'ha quasi preso eh gli hai sgusciato tra le mani non so se io l'ho filmato comunque c'è hai stanato l'armadillo ma cosa gli hai fatto per farlo uscire io non ho fatto niente ma cosa non hai fatto niente è andata lì e hai fatto casino